Vai! 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 Ma no! Che dovevi salire su lì! Sali come hai fatto prima! Ina! 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 Che paura! Comodo! Però no! A me piaceva quando eri lì così! Non puoi fare che salire su e mi saluti! Ok! Vai! 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 C'è ancora tempo! E' uno scimpanso! E' uno scimpanso! Poi basta perché sennò ti finisco! E' uno scimpanso! 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 E' uno scimpanso!